Buongiorno a tutti, allora, 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 dovrei dire buonasera o buon mattino, comunque va bene, ci sono disputate le partite del campionato europeo femminile del gruppo B, Spagna-Finlandia e Germania-Danimarca, quindi naturalmente dividerò le partite, adesso parleremo di Spagna-Finlandia e poi parleremo subito dopo di Germania-Danimarca. Ho aspettato un attimo, ho fatto decantare, mi sono rivisto gli highlight di Spagna-Finlandia che avevo già visto, però ho detto ripassiamo un attimo e com'è andata questa partita? Diciamo che è andata come un po' Roma-Longobarda, se andate a vedere il primo allenatore nel pallone, perché pronti via, la Finlandia dopo 50 secondi più o meno passa in vantaggio, clamoroso, up-bacco, un lancio buttato lì così dalla trequarti campo della metà campo della Finlandia, la Salström si inserisce in mezzo alle difensore, difensori femminili però, della Spagna, le giocatrici della Spagna sulla fascia, diciamo, tra la metà campo e la fascia, diciamo, in mezzo con le due giocatrici messe, così lei si inserisce nel mezzo, punta l'area, entra in area, leggermente defilata sul centro-destra dell'area di rigore, diagonalone, la portiera della Spagna la tocca con la punta delle dita ma la palla beffardamente termina sul palo e poi va dentro, praticamente palo-gol, Finlandia in vantaggio, up-bacco, e Finlandia che regge perché piano piano la Spagna comincia a macinare il gioco, a macinare il gioco, non crea granché perché tiri in porta alla fine della fiera, c'è un cross sbagliato che termina sulla parte superiore della traversa, poi arriva un gol ma il pallone è già uscito e quindi c'è un calcio d'angolo per la Spagna perché praticamente palla che rimbalza, la giocatrice della Spagna si avventa sul pallone in zona area piccola ma sul fondo campo, ma la palla è già uscita, lo mette sulla testa della sua compagna che segna ma bandiera in alzata, calcio d'angolo e quindi niente, poco male perché intorno al venticinquesimo, ventiseiesimo, quello che è, arriva al cross giusto, la parede si inserisce, la prende di testa, sapete la classica giocatrice che è appena fuori dall'area, in zona limite dell'area di rigore, arriva al cross, lei si butta dentro, mentre sta arrivando, la prende di testa e la mette dentro, quindi pareggia la Spagna, poi arriva il gol del 2 a 1 alla fine del primo tempo, un bel cross dalla sinistra, la Bommati era lì bella, tranquilla, felice come una Pasqua in mezzo all'area, nessuna che la marcava, colpo di testa molto bello e palla sotto l'incrocio, 2 a 1 Spagna che ribalta la questione. Secondo tempo non succede niente, non succede niente fino a quasi la fine, quando manca un quarto d'ora dalla fine, c'è una fagiolata, diciamo, sulla tre quarti del metà campo della Finlandia, l'arbitro decide di fischiare un calcio di punizione a favore della Spagna, in questo marasma di 4-5 giocatrici che se ne stava andando di santa ragione per prendere la palla, con una che era sdraiata a terra, che cercava di trattenerla, l'arbitro ha deciso di dare il calcio di punizione, un arbitro femmina, ha deciso di dare il calcio di punizione alla Spagna, cross in mezzo, linea di difensori attaccanti che puntano verso l'area di rigore, chi a difendere e chi ad attaccare, la García è la più brava di tutte, anticipa tutti, schiaccia di testa colpendola malissimo, perché è andata lì così, no? Per fare il colpo di testa e metterlo dall'altra parte, l'ha presa malissimo, quindi praticamente la palla gli è rimbalzata quando non devo toccarmi troppo il naso che sta guarendo, però se lo tocco sento che è meglio lasciarlo lì tranquillo, comunque colpo di testa e palla in rete, 3 a 1 Spagna, poi all'ultimissimo minuto, proprio all'ultima azione come si suol dire, è arrivato anche il calcio di rigore, perché la Cardosa ha puntato la giocatrice finlandese, non fatemi dire come si chiama perché c'è un nome lungo come una quaresima, e quella ti fermo io, la stesa di fisico, perché praticamente la palla passa, la Cardona no, perché l'armadio finlandese gli è franato letteralmente ad osso, calcio di rigore in eccepismile, lo batte la Caldentei che però è Mariona, per tutti è Mariona, Mariona Caldentei, Mariona sulla maglia c'è Mariona, molte giocatrici hanno il nome di battesimo, come si suol dire non il cognome, comunque teoricamente la Caldentei rigore al bacio, meglio di così non lo puoi battere, non potente ma preciso all'incrocio, letteralmente a baciare il palo, praticamente questa è la traversa, la palla è finita qua, proprio a baciare il paletto, tac, ma non il tiro che prende secco il palo, no, lo sfiora appena appena, la metsa lì, proprio lì, in modo che non puoi sbagliare, perché magari ogni tanto rimbalza qua, e ti torna indietro, rimbalza per terra, sta sulla riga, prende l'altro palo, e poi va fuori, no, preciso all'incrocio senza andare sul palo, palo go, no, all'incrocio, tac, appena appena sotto la traversa, rigore libidine, come si suol dire, quindi quando si acclasse, quindi Spagna-Finlandia 4-1, massacro, uno pronti via 50 secondi, Finlandia in vantaggio, dice minchia, attenzione alla sorpresa, no, infatti andiamo a vedere le statistiche, tiri in porta, già questo dice tutto, ma non vuol dire niente, perché ci sono squadre che hanno fatto 30 tiri in porta, le altre 4-5 ha vinto l'altra squadra 2-0, ogni riferimento a Inter Sassuolo è puramente voluto, comunque Spagna-Finlandia, tiri in porta, 32 a qua, tiri, tiri, non tiri in porta, tiri globali, 32 a 4 per la Spagna, tiri in porta, cioè nello specchio della porta, 13 a 2 per la Spagna, possesso palla, 78% a 22% per la Spagna, calci d'angolo, 17 a 0 per la Spagna, signori, un massacro, e la Finlandia è passata in vantaggio per prima, purtroppo non c'è gara, per il momento non c'è gara, unica partita è stata Inghilterra, ossia una a 0 in cui, diciamo che l'Inghilterra per possesso palla, per le azioni create eccetera, meritato, però se poi vai a vedere alla fine le parate dei portieri, il portiere inglese femmina ha fatto due parate, una bella anche libidine, l'altra poca roba, alla fine della fiera quasi ha fatto più parate la portiera inglese che non quella dell'Austria, però l'Inghilterra ha fatto gol l'Austria 9, 1 a 0, le altre 4 a 1 ieri, 4 a 1 adesso, e adesso prossimo video vedremo cosa ha combinato la Germania, detto questo ragazzoli io vi saluto, vi ringrazio, subito dopo questo video, un quarto 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti perché devo farlo e caricarlo, ci sarà anche il video che riguarderà Germania-Danimarca, chissà com'è finita, perché Germania-Danimarca in questo girone era molto molto interessante, e sulla carta ne parlavano come le due squadre che si giocheranno con la Spagna al primo posto, vedremo com'è andata, ciao!